Ciao ragazzi, benvenuti in questo primo video di esercizi su moti nel piano. Questo è il primo problema che vi propongo. Abbiamo un gatto che compie uno spostamento di 120 metri verso nord e poi 72 metri verso ovest. Dobbiamo determinare modulo e direzione dello spostamento che il gatto deve compiere per ritornare a casa. Fondamentalmente si tratta di fare un esercizio sui vettori, quindi è una cosa già vista quando si affrontano i primi esercizi sui vettori. Perciò iniziamo a disegnare i tratti percorsi dal gatto. Considerando 20 metri ogni quadretto, più o meno un disegno abbastanza in scala. Ho indicato qui il vettore r1, il movimento qui dalla casa fino a questo punto e poi r2, il vettore da questo punto a questo, quindi i 72 metri verso ovest. Ricordate che qui c'è il nord, qui c'è ovest, qui c'è est e qui c'è sud. Per tornare al punto di partenza, il gatto dovrà compiere questo spostamento. Ed è questo di cui dobbiamo determinare modulo e direzione. E per una questione di comodità, utilizzo questo sistema di riferimento con l'asse x rivolto verso sinistra. Vi ricordo che la scelta del sistema di riferimento è arbitraria. Così r1 in modulo vale 120 metri ed r2 in modulo vale 72 metri. Per quanto riguarda il modulo del vettore delta r, questo è un triangolo rettangolo. Perciò sappiamo che il modulo di delta r, cioè l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo, è la radice quadrata del cateto al quadrato più secondo cateto al quadrato. Risultato 140 metri. Direzione Direzione è un angolo. Per comodità, prendiamo questo angolo, alfa. Dalle relazioni trigonometriche sappiamo che la tangente di alfa è uguale al rapporto tra il cateto opposto e l'altro cateto. Dal momento che vogliamo un angolo, l'angolo sarà, vi ricordo, tangente alla meno 1, calcolatrice ovviamente ci fa questo calcolo, di r2 su r1. r2 è 72, r1 è 120. La tangente alla meno 1 di 72 su 120 ci dà 31 gradi. Questo vettore delta r ha un modulo di 140 metri e una direzione 31 gradi sud rispetto a est. In alternativa, se noi consideriamo questo angolo qui, non faremo altro che 90 gradi meno alfa. Vi ricordo che la scrittura tangente alla meno 1 non significa 1 fratto tangente. È il modo che utilizzano le calcolatrici per determinare la funzione inversa della tangente che si chiama arco tangente. Quindi ricordate che questo non è 1 fratto tangente. Questa cosa è molto importante. Ora però ci viene richiesto, se il gatto impiega 45 minuti per completare il primo spostamento e 17 minuti per completare il secondo, quali sono il modulo e la direzione della sua velocità media durante questo intervallo di tempo di 62 minuti. 45 più 17 chiaramente ci dà il delta t totale che è 62 minuti, dato proprio dalla somma di t1 e t2. Ho rappresentato qui i vettori velocità. La velocità media sappiamo che è lo spostamento diviso l'intervallo di tempo e lo spostamento dal punto di vista del modulo lo sappiamo già. Abbiamo un vettore che è lungo 140 metri e un delta t che va espresso in secondi perciò 62 minuti per 60. Per determinare l'angolo non abbiamo problemi perché questo angolo lo abbiamo già trovato. rispetto all'asse y abbiamo questo valore di angolo e se noi volessimo l'angolo rispetto all'asse x angolo positivo questo qui non ci sarebbero problemi perché se chiamo questo beta beta sarà 90 gradi più alfa perciò 121 gradi. Ed ecco un problema molto semplice abbiamo un vettore velocità di modulo 3,25 metri al secondo questo vettore forma un angolo di 30 gradi sopra l'asse delle x pertanto se questo è l'asse delle x qui avremo il vettore velocità e questo angolo è di 30 gradi. Dobbiamo determinare le componenti vx è questa orizzontale vy è questa verticale vx è v per il coseno di alfa vy è v per il seno di alfa perciò sostituendo i valori otteniamo 2,81 metri al secondo per vx e 1,63 metri al secondo per vy. Il secondo punto ci dice come cambiano le componenti della velocità se la velocità dell'uomo si dimezza? E' molto semplice se noi qui nelle relazioni di vx e vy mettiamo v mezzi il risultato verrà dimezzato. Un elettrone si sta muovendo orizzontalmente a 2,10 per 10 alla 7 metri al secondo quando le placche di deflessione di questo tubo gli forniscono un'accelerazione verso l'alto di 5,3 per 10 alla 15 ho rappresentato qui il sistema di riferimento e i valori di velocità e accelerazione. Il problema chiede quanto tempo impiega l'elettrone a percorrere una distanza orizzontale di 6,2 centimetri e qual è lo spostamento verticale durante questo tempo. Cerchiamo di ragionare in due dimensioni quindi scomponiamo il moto in un moto orizzontale uno verticale. In orizzontale non c'è accelerazione la velocità è costante moto rettilineo uniforme pertanto la distanza percorsa non è nient'altro che la velocità alla quale sta viaggiando per il tempo e da questa determiniamo il tempo che impiega alla velocità fornita per percorrere questa distanza. Ho trasformato x da centimetri a metri quindi si tratta semplicemente di fare questa operazione otteniamo 2,95 per 10 alla meno 9 secondi ovvero 2,95 nanosecondi poi dobbiamo determinare lo spostamento verticale durante questo tempo ma in verticale il moto è uniformemente accelerato perché abbiamo un'accelerazione costante verso l'alto. Il tempo è fornito la posizione sulla verticale la indico con y e vi ricordo legge oraria posizione iniziale che noi consideriamo qui nell'origine quindi 0 più v0 per t velocità iniziale per t più un mezzo a t al quadrato però vi faccio notare che la particella stava viaggiando in orizzontale quindi la velocità iniziale sulla verticale è nulla non dobbiamo far altro che utilizzare un mezzo per l'accelerazione verso l'alto 5,30 per 10 alla 15 per il tempo che abbiamo determinato al quadrato quindi 2,95 per 10 alla meno 9 tutto al quadrato e questi sono secondi al quadrato otteniamo ovviamente un risultato in metri questo è il risultato in metri volendo dal momento che la distanza era espressa in centimetri possiamo scrivere che questo corrisponde a 2,31 cm ragazzi questo video di esercizi termina qui spero vi sia stato utile non dimenticate di lasciare un like e soprattutto condividere l'esistenza del canale io vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao ciao